Visite dermatologiche di screening gratuite su prenotazione si svolgeranno sabato 24 settembre in contemporanea in diverse città d'Italia e a Padova presso la clinica dermatologica al piano terra degli ambulatori di Via Gallucci 4 presso l'azienda Ospedale Università di Padova. Le visite saranno esclusivamente su prenotazione e fino ad esaurimento posti disponibili contattando fin da ora il numero 02-829-00619 dal lunedì a venerdì dalle 9 alle ore 15. La campagna nazionale di sensibilizzazione sulla cheratosi attinica, segnali sulla pelle, promossa da Società Italiana di Dermatologia Medica Chirurgica, ha l'obiettivo di sostenere la diagnosi precoce della cheratosi attinica, una lesione della pelle che può evolvere dopo i 40 anni in carcinoma cutaneo se non viene identificata e trattata. Le sedi preferenziali, quali viso, orecchie, cuoio capelluto e dorso della mano, hanno un rischio di insorgenza maggiore della malattia in uomini e donne con capelli biondi e occhi chiari, ma anche l'esposizione solare eccessivo e l'uso di lampade abbronzanti possono essere fattori di rischio. Il professor Stefano Piazerico è il dermatologo di riferimento per la cheratosi attinica, che viene trattata nell'unità operativa complessa di dermatologia diretta dal professor Mauro Alaibach e dall'azienda ospedale Università di Padova.